...mi perdonerà. Momento entrato alla vagina, giusto? Dedicato alla vagina, ci sta? Ci sta? Ok. Il prossimo verano è proprio dedicato alle ragazze perché ci vogliamo bene. Il prossimo, chi lo sa? Il prossimo pezzo, il titolo Light of my way! Che non parte? Ottimo! Così una base direi! Vadi! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti